E per tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video, ciao a tutti da Thomas giallorosso Oggi ragazzi siamo qui tornati, in un nuovissimo video sul mio canale per andare a fare come avrete detto dal titolo La prediction della serie B per la stagione 2024-2025 Come sempre prima di partire però vi invito a lasciare un bel pollicello nel suo video e iscrivetevi al canale E come seconda cosa, questa è più una premessa a dir la verità E' quella che avevo detto già qualche video fa che in questo canale si sarebbe parlato Da adesso in poi solo del Catanzaro Però in quanto il Catanzaro partecipa al campionato di serie B Ho deciso comunque di portare questa breve prediction della serie B Breve perché? Perché cercherò di stare nei 10, 11, 12 minuti per non farla durare troppo In modo che possiate vedere la finale senza annoiarvi Quindi dirò la posizione della squadra e poi un brevissimo, una brevissima motivazione del perché Ho deciso di metterla in quella posizione Detto ciò però direi di non partire troppo in chiacchiere e partire subito Ovviamente andiamo dalla ventesima fino alla prima come succede in ogni prediction che si rispetti E partiamo dalla ventesima posizione Dunque come detto dove ho deciso di mettere la carrarese La motivazione principale perché hanno preso molti giocatori dalla serie C O comunque sconosciuti, diciamo mezzi sconosciuti E non hanno fatto un mercato da serie B di categorie Secondo me 2-3 colpi se sono in promossa di categoria devi farli per salvarti O comunque per darti una possibilità, quindi ventesima carrarese Diciannovesima posizione invece per il Città, il Cittadella che secondo me alla fine dopo 9-10 anni Non mi ricordo precisamente quanti consecutivi in serie B alla fine tornerà purtroppo in serie C Una squadra che ha sempre puntato molto sui giovani, molto su colpi low cost dalla serie C Quindi quest'anno potrebbe non pagare questa scelta e potrebbe appunto condannarli a una retrocessione In serie C da diciannovesima forza del campionato Passiamo poi all'ultima squadra da retrocesso diretto ovvero la diciottesima posizione dello Spezia Secondo me ci sarà dunque un grande fallimento in questa stagione Forse sarà la delusione più grande quest'anno lo Spezia Che retrociterà con la diciottesima posizione Già l'anno scorso ho valutato per la salvezza L'ultima giornata era riuscita a non giocare neanche i play-out Quindi sarà salvata direttamente con una quindicesima posizione se non sbaglio E quest'anno invece secondo me retrociterà E non solo tramite i play-out Quindi vuol dire che ti concedi almeno una chance in più Ma direttamente con la diciottesima posizione Principalmente perché ho visto in Coppa Italia come la fase difensiva sia tutt'altro che impeccabile A parte Sari in porta, giocatori di movimento e difesa se ne salvano veramente pochi Per non dire nessuno, forse Ristov l'unico Per il resto è veramente una fase difensiva che deve essere molto rinforzata Ma sembra che lo Spezia non voglia più fare mercato in entrata Anzi al massimo in uscita Qualche colpo in uscita lo farà ancora Quindi attenzione perché è già una fase difensiva debole Se andrà via qualcuno ancora nelle prossime ore, nelle prossime giornate Potrebbe veramente diventare un calvario questa stagione per lo Spezia Passiamo poi adesso alla diciottesima posizione Piccolo spoiler se così lo vogliamo definire Secondo me quest'anno ci saranno i play-out Quindi c'erano il massimo 4 punti tra sedicesima e diciottesima Diciottesima posizione per la Juve Stabia Dunque un'altra neopromosta dopo la Carrarese Secondo neopromosta che cito in questa prediction Juve Stabia che secondo me ha fatto forse un mercato leggermente migliore rispetto a quello della Carrarese Nonostante abbia perso i preliminari di Coppa Italia contro l'Avellino Però comunque secondo me la squadra è leggermente migliore Partiva già con una squadra che secondo me è leggermente migliore rispetto a quella della Carrarese E questa si è un pochino migliorata Poi ho molta fiducia nel DS Lovisa Comunque un DS che punta molto sui giovani Sa il fatto suo Quindi per questo io dico che secondo me la Juve Stabia può Darsi una chance in più per salvarsi Non retrocederà direttamente Vedremo cosa farà il play-out Se ci dovesse poi effettivamente andare Se ci siamo in una posizione Quindi squadra che secondo me fare i play-out assieme alla Juve Stabia Io metto il Sutirol La squadra più a nord di tutta la Serie B Io metto il Sutirol perché Non mi ha convinto moltissimo Forse è la prima squadra che cito che ha fatto un pochino di colpi per la Serie B Vi cito Ceppitelli per esempio Presi in difesa Però diciamo che comunque Non ha fatto grandissimi colpi A livello di numero Ha fatto pochi colpi E inoltre Quei pochi colpi che ha fatto Sì sono da categoria Però lasciano il tempo che trovano Diciamo bisogna aspettare Che si vedano veramente in campo Cosa possano fare Poi passiamo alla quindicesima posizione Quindi prima squadra salva direttamente Io vado a mettervi la Reggiana di William Viali Secondo me quest'anno la Reggiana può fare peggio rispetto all'anno scorso Perché forse l'organico è leggermente peggio La Rosa è leggermente peggio Si è rinforzata sì Prendendo per esempio Portanova Dal Genoa Praticamente un'operazione Che poi diventerà Titolo definitivo La prossima stagione Al 90% E appunto Secondo me ecco Qualche colpo interessante Ripeto l'ha fatto Leggermente meglio rispetto al Suttiro Per questo gli metto una posizione più avanti Ma saranno questioni di 1-2 punti Poi 14esima posizione per la Salernitana Salvezza un pochino più tranquilla rispetto alla Reggiana Salernitana che nonostante comunque ha rimontato lo Spezia Da 1-3 a 1-3-3 poi vittoria e rigore in Coppa Italia Secondo me comunque lascia ancora un po' desiderare Perché vabbè Di A ormai promesso sposo della Lazio se ne andrà Ci sono altri calciatori che secondo me Non vogliono fare la Serie B Sono infelici di fare la Serie B Sicuramente verranno ceduti E' ancora un cantiere molto aperto alla Salernitana Ricordiamo comunque Per una squadra che retrocede Dalla A alla B Non è mai facile Poi riuscire a risalire subito Ma soprattutto riconformarsi ad alti livelli in Serie B E dunque per questo io gli metto 14esimi 13esima posizione Poi metto il Cosenza Rivale storica del Catanzaro Li metto 13esimi perché Secondo me parlano peggio rispetto all'anno scorso Dove hanno concluso Noni Pregionare di 4 posizioni Con questa alvezza tranquilla Che è l'obiettivo con cui secondo me deve partire Sempre ogni anno il Cosenza Come anche dal trono del Catanzaro E ho deciso di mettere in 13esima posizione Perché hanno fatto dei colpi buoni Mi viene in mente dalle mura in difesa Nonostante nelle ultime esperienze Abbia sempre fatto retrocedere le squadre in cui è andato Però comunque secondo me è un buon colpo in difesa Giovane di prospettiva Stanno facendo altri colpi Stanno rinforzando sempre proprio anche nel parto difensivo L'ultimo è stato Ricciardi da Lavellino E dunque secondo me Può essere una squadra interessante A livello di organico e di rosa Non mi convince tanto Alvini Che nell'ultima esperienza con lo Spezia Non ha fatto benissimo Però vedremo Magari mi smentirà Ecco Io comunque penso sia un buon allenatore Però vedremo Vedremo Magari è più Un allenatore Per un altro stile di gioco Per un altro tipo di giocatore Rispetto a quelli di Cosenza quest'anno E l'anno scorso lo Spezia Poi Passiamo Alla dodicettima posizione Dovevo mettervi il Mantova Mantova di Davide Postanzini Secondo me Praticamente è un grandissimo calcio il Mantova Forse uno dei A livello tattico Una delle migliori squadre di serie B Il Mantova Che è neopromosso dalla serie C Quindi vi cito anche la terza neopromossa su 4 In questo video Alla dodicettima posizione Come ha detto il Mantova Ve li metto qua Perché loro hanno fatto colpi di categoria Quindi sicuramente si salveranno senza problemi Non penso però qualcosina di più Perché comunque La rosa Quella che è I colpi di categoria sono stati fatti Sì però Non si può rivoluzionare Tutta una rosa che Secondo me Bisognava rivoluzionare Quindi Non Non farà più di questo Secondo me Poi Undicesima posizione Per forse un'altra grande Revoluzione del campionato Ovvero il Frosinone Io lo metto undicesimo Il Frosinone dell'ex Tecnico del Casanzaro Vincenzo Vivarini Lo metto undicesimo Perché non Tanto perché Non Non mi fidi di Vivarini Più che altro perché Secondo me il mercato Hanno Perso molti giocatori Che erano in prestito Infatti l'anno scorso Il Frosinone ha fatto Una squadra di solo prestiti Praticamente E Quest'anno si è rinforzata Poco Vedi dietro con Il gioco di Vivarini Non va bene per Il Frosinone Abbiamo visto Il primo gol subito Dal Pisa in Coppa Italia Con L'impostazione da dietro Sbagliata Quindi secondo me Per una serie di motivi Finirà il dicesimo Decima posizione Poi per il Brescia Il Brescia Che è gemellato Tra l'altro Col Catanzaro Ho deciso di metterli decimi Perché Secondo me Faranno un campionato Simile a quello D'anno scorso Paggiorano le due posizioni Quindi usciranno Anche dai playoff Dalla zona playoff Però Alla fine Secondo me faranno Un buon campionato Rolando Marano Secondo me è un buon Annellatore per la serie B Hanno fatto dei colpi importanti Sia in uscita Che in entrata Hanno fatto molte Provisorenze Che gli hanno permesso Di fare dei buoni colpi In entrata Vedremo Come si comporteranno Questi nuovi giocatori Nonna posizione Quindi appena fuori Per un capello Dalla Dalla zona playoff Metto il Bari Che dopo la stagione fallimentare La scorsa stagione fallimentare Secondo me quest'anno Con l'ex DSL Catanzaro Giuseppe Magalini Riuscirà a rialzarsi Non riuscirà a rientrare In zona playoff Però riuscirà comunque A salvarsi Innanzitutto tranquillamente E lottare comunque Fino all'ultimo Per entrare in zona playoff Con l'ottava classificata Che ho deciso di mettere Il Catanzaro Quindi appena dentro La zona playoff Giorerà di tre posizioni Rispetto alla scorsa stagione Dove è arrivato quinto Secondo me quest'anno Faremo un campionato Leggermente peggiore Perché Sicuramente bisogna Ancora fare gli ultimi acquisti Bisogna Aspettare che Caserta impronti Al meglio le sue idee Ai giocatori Quindi faremo leggermente peggio Però poi potremo giocarci Le nostre carte di playoff Settima posizione Poi per il Modena Secondo me Modena di Bisoli Può fare bene Può fare bene perché È una squadra Che è stata costruita bene Mi piace Mi è piaciuto molto Il colpo di Pedro Mendez In attacco Quello di Gregor De Frel È da vedere Perché comunque È un calciatore Che inizia ad avere Una certa età Forse non può più Fare la differenza In Serie B Nonostante sia un gran giocatore Vedremo Sarà la finita È stato un colpo azzeccato Oppure no Passiamo poi Alla sesta posizione Dove metto L'ultima neopromossa Di questo video Ovvero il Cesena Cesena che Oltre il fatto che Ha vinto In Coppa Italia Fuori casa Contro l'Ellas Secondo me Farà un gran campionato Perché Non ha rivoluzionato Molto rispetto Alla scorsa stagione Ha fatto due o tre colpi Giusti Per la Serie B Per permetterti La salvezza Ma già la rosa Era importante Ha fatto un po' come Il Catanzaro Alla scorsa stagione D'anno neopromosso Ha rivoluzionato Molto poco Una rosa che era già Molto molto buona Poi Iniziamo Ad avventurarci Nelle posizioni calde Quinta posizione Per il Pisa Il Pisa di Pippo Inzaghi Secondo me Pippo Inzaghi Un animale Da Serie B Un allenatore Che in Serie B Sa il fatto suo Abbiamo visto La vittoria per 3-0 Fuori casa Contro Contro il Frosino Nella vendito Stirpe In Coppa Italia Si E calcio d'agosto Si Però comunque Ho visto Uno Pisa giocare Molto molto bene Sottomettere una squadra Come quella di Vivarini Non fargli fare Il suo gioco Del possesso palla Quindi comunque È una squadra Che può sapere Il fatto suo E che potrebbe Insidiare le posizioni Di vertice Passiamo poi Alla quarta Classificata Dove metto L'ultima retrocessa Della Serie A La Serie B Di quest'anno Ovvero il Sassuolo Sassuolo che è vero Deve vendere molto ancora Perché non penso Che i giocatori Come l'Oriente Rimarranno E Berardi Rimarranno in Serie B Già Berardi Più probabile L'Oriente Non lo so Dovesse rimanere In Serie B Sarebbe sicuramente Tanta roba Per il Sassuolo Bisogna vedere Però comunque Morale rimane Sicuramente Ecco serve un'offerta Va venduto Perché sennò Rischia di rimanere Scontento E fare una Pessima stagione Però A mio modo di vedere Comunque Anche se dovesse giocare Con le riserve Il Sassuolo Si qualificherebbe Senza troppi problemi Ai playoff Io lo metto quarto Perché secondo me È davanti a tre squadre Che conoscono già La Serie B Hanno già 1-2 anni Di B alle spalle Quindi sanno già Un pochino Come funziona È una cosa Ha il stesso livello Di quale del Sassuolo Terza posizione Dunque Ai playoff Che come il Sassuolo Salta un turno Però appena Dietro alla prime due Quindi appena dietro Alla promozione diretta Metto la Samp La Sampdoria Fatto moltissimi colpi Koda Che è arrivato Dal Genoa Che tra l'altro Koda Con il suo voler Giocare in Serie B E non in A Ha avuto il potere Di far Rifare una trattativa Sampdoria e Genoa Dopo un sacco di tempo Poi Tuntino Che è passato All'Alcosenza Proprio come detto Alla Samp In difesa hanno preso Veroli In Porta Hanno preso Wisman Dell'Atalanta Ander 23 Sicuramente un ottimo portiere Hanno fatto sicuramente Di colpi interessanti Vedremo come si amalgameranno Questi nuovi acquisti Con la squadra Io penso che potrebbero Non far molto molto bene Ma davanti A due squadre Che a livello di organico E di gioco Secondo me sono Un tassello Forse anche mezzo Però Hanno qualcosa in più Diciamo In seconda posizione Quindi vado a mettere Il Palermo E in prima la Cremonese Vado a mettere Prima la Cremonese Perché secondo me A livello di Rosa È la squadra più forte Di Serie B Ha tenuto molti giocatori Della scorsa stagione Ha implementato Con qualche nuovo acquisto Come per esempio De Luca Proprio dalla Samp Bonazzoli Dalla Salernitana Si è liberata Di quei giocatori Che forse Non erano proprio adatti Neanche come riserva Per permettersi Una promozione diretta Secondo me Dunque la Cremon Potrà non solo Essere promossa Direttamente in Serie A Ma vincere anche Il campionato di B Seconda posizione Invece avrei il Palermo Che ha una rosa Forse leggermente peggiore Rispetto a quella della Cremon Ma leggermente migliore Come detto Rispetto a quella della Samp Anche a livello di gioco Dionisi Secondo me È un animale Da Serie B Forse per la Serie A Non è adattissimo L'abbiamo visto col sassuolo Però per la Serie B È un ottimo allenatore A mio modo di vedere Detto ciò Fatemi sapere la vostra Con un commento Pollicione sul video Iscrizione al canale Non sono stato nei 12 minuti Però vabbè Comunque Il video è risultato abbastanza corto Ho fatto più veloce che potevo Detto ciò Fatemi sapere appunto La vostra Su questa prediction Se volete Fatemi anche la vostra personale Vi leggo tutti Pollicione sul video Iscrizione al canale Ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Bella